Questa volta ho pensato di raccontarvi di un personaggio molto particolare, le cui vicende sono ancora avvolte in parte da mistero. Sto parlando di Baldassare Odibert, un personaggio apparso quasi dal nulla nel territorio della Maremma e del Monte Amiata e che decise nei primi anni del 1800, fino alla metà del 1800, di piantare croci ai bivi, croci agli angoli delle strade. Baldassare Odibert, forse il suo vero nome era Baldassare Odibert, era nato intorno alla seconda metà del 1700 e comunque sappiamo per certo che nel 1791, dopo aver abbiurato al giuramento della Costituzione Civile del Clero, fuggì dalla Francia e venne in Italia. Alcuni autori lo ritengono originario o di Vercelli o di Arezzo, ma in realtà egli aveva natali francesi o comunque aveva delle origini francesi. Nel 1831 il Granduca Leopoldo II di Lorena lo volle al capezzale della moglie Maria Carolina di Sassonia che era ammalata perché girava voce che Baldassare Odibert fosse anche un guaritore. Non sappiamo poi come la storia sia andata, se veramente abbia potuto fare qualcosa per la moglie Maria Carolina, però sappiamo che il nostro Baldassare Odibert era ben voluto dalle famiglie molto vicine ai Lorena, come per esempio il dottor Ambrogio Ginanneschi, che era una personalità amiatina appunto molto legata alla casata dei Lorena. Di tutte queste croci che Baldassare Odibert con l'aiuto anche di un mulo che si portava dietro proprio per portare carichi pesanti, di tutte queste croci che egli decide di piantare e che mette appunto ai crocicchi, ai bivi, agli angoli delle strade, anche nelle zone di costa del Livornese, anche nell'area Aretina per esempio, di tutte queste croci ce n'è una in particolare che qualche anno fa ha destato la mia curiosità ed è quella che si trova fuori dall'abitato di Arcidosso, lungo la strada che da Arcidosso porta in direzione Santa Fiora-Monte Amiata e proprio vicino al punto dove Davide Leazzaretti fu ucciso il 18 agosto 1878. Cosa c'ha questa croce in particolare? Intanto la croce è in ferro ed è sostenuta da un basamento, un parallelepipedo, un cubo enorme di peperino, credo comunque pietra locale e su una faccia di questo cubo è inciso il motto di Costantino, quello famoso della visione che Costantino ha il giorno prima della battaglia del ponte Milvio, con questo segno vincerai. Lo stesso motto che si trova anche da tantissime altre parti ma anche nel portale della chiesa di Santa Maria Maddalena a Rennele Chateau. Ma non è finita qui, su un'altra faccia di questo cubo c'è la scritta missione con sotto una data la data originaria era quella del 1846 poi nel tempo fu corretta con 1878 non so se dovuta proprio all'uccisione di Davide Leazzaretti o a un restauro per qualche altro avvenimento fatto sta che comunque la data originaria era 1846 quindi missione 1846 quindi io mi sono posta delle domande e mi ha colpito moltissimo il fatto che croci della missione sono presenti moltissime in lingua d'oca una in particolare è molto simile a quella di Arcidosso e si trova a Custassa e nel mio articolo libero free che potrete trovare online semplicemente cercando tra Rennele Chateau e la Maremma ecco la croce di Custassa è di fatto pressoché identica a quella che si trova ad Arcidosso e allora il nostro Odibert chi era e perché doveva evangelizzare così tutti i crocicchi? una ragione che è quella legata alle religioni certamente è evidente i crocicchi erano luoghi secondo la credenza popolare di raduno delle streghe e degli stregoni perché i crocicchi erano sacri per i pagani a divinità legate all'oltretomba o comunque divinità legate al passaggio come Hermes come la dea dei Cardini come Ecate ma in realtà non sappiamo il motivo per cui Baldassarre o Odibert decide di evangelizzare così fortemente il territorio della Maremma e soprattutto del Monte Amiata forse c'è un legame con Ilorena? forse c'è qualcosa che lega Ilorena alle vicende di Rennele Chateau oppure non c'entra nulla la questione della Francia non c'entra nulla la questione della Batesonnier il Rennele Chateau ma semplicemente doveva essere un meccanismo di evangelizzazione che partiva dal nord e raggiungeva fino la nostra penisola comprendendola tutta ricordo che la croce che svetta sul Monte Amiata fu voluta da Leone XIII il cui simbolo il cui emblema si trova nel portale della chiesa di Rennele Chateau e che la stessa croce fu voluta sul Monte Musinet perché il progetto di Leone XIII era quello di porre queste croci sulla vetta dei monti più alti più alti o forse più energetici più armonici più simbolici o più misteriosi sono domande a cui ognuno di noi può rispondere a proprio gusto scelta o ricerca un abbraccio a tutti e un abbraccio a tutti e buon abbraccio a tutti l'abbraccio a tutti le this buon abbraccio a tutti